Siamo ormai ad una svolta, ci si avvia velocemente verso la normalità, diciamolo pure. Ormai ho visitato anche il Terminal A, è completo, realizzato. Adesso soltanto il tema delle corrette e doverose autorizzazioni, che io mi auguro possano essere, nel rispetto delle procedure e anche del merito, rilasciate al più presto. Per quanto riguarda gli enti che, non dico dipendano, sono collegati alla Regione, già mi sono fatto carico di incontrarli a brevissimo, per sollecitare da un lato, ripeto ancora, nel rispetto un attimo del merito dei nulla osta. Io ringrazio il Presidente Di Palma e chi ha ricordato lo sforzo della Regione, abbiamo messo a disposizione tanti pullman dell'AST, società regionale, per collegare Trapani, migliaia di persone che erano state dirottate a Trapani nei giorni caldi per riportarli a Catania e poi in maniera tale che loro perseguissero il loro viaggio. Ringrazio l'AST che a martedì scorso era qui, ringrazio tutte quelle strutture regionali che hanno risposto bene ad un appello, un appello dove io credo che non possa che condividersi l'esigenza della solidarietà, solidarietà sociale, solidarietà politica, solidarietà istituzionale.